Eccoci con Tombesi, vittoria per 10-0 contro l'Italian Kick-Off, partita perfetta. Sì, bella partita, ovviamente sicuramente noi ci siamo fermate da poco, quindi il ritmo l'abbiamo mantenuto un po' più alto nelle avversarie. E' un torneo per divertirci, sono tornata dopo un mese in campo e mi sono semplicemente divertita e ho ripreso piano piano i ritmi iniziali. Rispetto alla scorsa gara si è vista sicuramente il tuo contributo, cosa pensi della tua prestazione? Penso che da quello che mi hanno raccontato, in quanto era assente a causa dell'infortunio, è stata una partita molto combattuta la prima e io scendo sempre in campo per contribuire ad aiutare la squadra, a dare il mio meglio. Sicuramente sì, erano molto contate con i cambi e anche in difficoltà, in quanto l'altra squadra comunque è una squadra molto organizzata. Le 100 CS le conosco abbastanza tutte, sono ragazze di ottimo livello.